Il corso Fearless Organization, il valore della sicurezza psicologica. Realizzare performance e preservare la salute di individui e team offre strumenti pratici per costruire un ambiente di sicurezza psicologica, favorendo il benessere e la performance dei team. Tra i suoi punti di forza, insegna come promuovere una cultura aziendale dove i dipendenti si sentano liberi di esprimersi senza timore di ritorsioni, facilitando l'innovazione e riducendo errori e incidenti. Il corso sottolinea l'importanza di collegare la sicurezza psicologica alla motivazione e alla salute organizzativa, creando le condizioni per team più coesi, creativi e resilienti. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale, nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.